Forlì, l'allenatore, quando lo firma? Allora Forlì, l'allenatore, Giancarlo, sta per firmarlo? L'ha già firmato? Lo firmerà? L'allenatore Forlì l'ha firmato qualche ora fa, abbiamo raggiunto un accordo con Sandro Del Agnello e quindi Del Agnello sarà il futuro coach di Forlì per i prossimi due anni e quindi pensiamo di aver fatto la scelta più corretta, la scelta che va in direzione di dare quell'ulteriore step di crescita alla nostra società. La scelta di Del Agnello è stata una scelta presa quanto tempo fa in realtà? La scelta di Del Agnello è rientrata all'interno di un paio di nomi che la fondazione, che è la proprietà della scuola Paracanestro Forlì, aveva fatto nelle ultime settimane quindi abbiamo sondato le persone, la scelta è ricaduta su Sandro, chiaramente abbiamo rispettato i suoi impegni perché erano impegni molto importanti. Sandro Del Agnello è un nome conosciutissimo a Forlì perché ha allenato a Forlì nella stagione 2012-2013, la allora Fulgor Libertas arrivò quinta in regular season per poi essere eliminata al primo turno di playoff da Brescia. Tendenzialmente quando cerchiamo di portare qualche giocatore, qualcuno dello staff tecnico, non guardiamo solo le caratteristiche tecniche che sicuramente sono importanti, cerchiamo, poi non ho detto che sempre ci riusciamo, però cerchiamo di guardare anche l'aspetto umano, l'aspetto di personalità.